Lei, Vivian Mayer, di Cinzia Ghigliano C'era una volta una tata, si chiamava Vivian, Vivian Mayer. Ai bambini voleva bene, ma io e il suo unico grande amore. Eccomi qua, io, la sua macchina fotografica. Vivian mi teneva sempre accanto al cuore. Un battito del mio occhio, finta palpebra, apri e chiudi, fermava il mondo che i suoi occhi scoprivano. Ho fotografato Vivian tante volte, nostri complici, gli specchi, ci guardavamo immesse nel mondo intorno a noi. Ogni giorno Vivian si prendeva cura di bambini di altri, a volte li fotografava anche mentre dormivano. La mattina lo scolabus veniva a prenderli. Li guardavamo salire e poi restavamo sole, io e lei. Vagabondavamo per le strade di New York per catturare il senso e l'anima delle persone. Vivian c'era nata, amava quella città. Come amava Chicago quando si trasferimmo lì, nei quartieri poveri, nei mercati, seguiva suoni e odori. Odori e suoni che nelle sue foto sembra ancora di sentire. Voleva bene i bambini, li fotografava con cura speciale. Loro sentivano di potersi fidare e ci guardavano dritti negli occhi. Insieme abbiamo molto viaggiato su autobus, treni e navi, sempre fotografando il mondo. Dicono fosse di poche parole, lunatica, scostante. Non le persone per lei erano tutto, ogni persona ha una storia. Vivian scattava e il nostro diario prendeva corpo. Si popolava di luoghi diversi, di paesaggi strani, di gente che parlava tre lingue. Io sono la penna con cui il diario è stato scritto. Io, l'occhio strano che ha testimoniato la straordinarietà del quotidiano. Ho visto di ogni scatto, l'attimo prima e l'attimo dopo. Clac! La mia voce per condividere la sua scelta, il suo istante. Queste sono alcune delle immagini del mio occhio insolito, flash della mia memoria, anche se io non ho una memoria. Sono stata e resterò solo una macchina fotografica. La piccola roll e i flex a pozzetto di Vivian Meyer, sicuramente la sua più fedele amica. Vivian ha sempre vissuto sotto lo stesso tetto dei bambini di cui era tata. Voleva però una stanza tutta per sé, con una speciale serratura che esolasse il suo regno dal resto della casa. Nessuno dettava regola a Vivian, tutti rispettavano le sue. Vivian era misteriosa. Usava limone aceto per lavarsi i capelli, portava camice da uomo, impregava in francese, conosceva a memoria tutti i racconti di John Henry, camminava come un uccello. E così, come un trampoliere dalle lunghe gambe, ha attraversato il suo tempo fotografandolo. Chissà se continua a farlo, anche senza di me. Immagini, qualcuno dice centomila, rimaste in casse abbandonate, nascoste in quei rullini e in quelle pellicole, che un signore curioso acquistò un giorno a un'asta di cose abbandonate. Non sappiamo cosa avrebbe fatto Vivian se fosse vissuta negli anni del digitale. Una cosa è certa, Vivian ha fermato per noi il tempo, ogni istante è racchiuso nelle sue immagini e oggi la nostra memoria. Grazie Vivian.